Agricoltura, industria, enogastronomia e non di meno il turismo. Di questo si è discusso in una delle perle della provincia di Frosinone, il comune di Aquino, dove ha fatto tappa il Movimento 5 Stelle. Il turismo deve essere un veicolo per creare nuovi posti di lavoro e nuova occupazione. Noi abbiamo milioni di turisti che transitano sui pullman, sul tratto di autostrada che va da Roma a Napoli, arrivano a Cassino, vanno a visitare l'abbazia di Monte Cassino e poi vanno via. Uno come me, che vuole la fiducia dei cittadini per entrare all'interno del Consiglio regionale del Lazio, ha ben chiaro in mente cosa potremmo fare per portare i turisti all'interno della nostra città e in questo caso all'interno di questo bellissimo comune che è Aquino. Ma ci sono qui in zona anche tantissimi altri borghi. Quindi cosa fare? Creare delle microstrutture ricettive in grado di accogliere i turisti. In che modo? Creando anche delle offerte turistiche da mandare ai tour operator. Il lavoro al centro degli obiettivi del candidato pentastellato Alessio Carlino, forte della candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Roberta Lombardi, vuole rappresentare il Frusinate alla Pisana. Io mi pregio di rappresentare l'ente nazionale per il microcredito, che è un ente che amministra il microcredito. Cos'è il microcredito? È un fondo creato anche grazie agli stipendi dei nostri parlamentari eletti. Vedete la forza del Movimento 5 Stelle? Noi siamo coerenti, abbiamo detto che ci saremmo tagliati i nostri stipendi per creare questo fondo per il microcredito, lo abbiamo fatto. Il microcredito cosa fa? Dà fin da subito, fin da domani se vorrete, fino a 35 mila euro per creare piccole e medie imprese, quindi per creare occupazione, quindi per creare lavoro sul territorio. Ecco la forza di un Movimento che continua a fare quello che dice e lo fa con estrema puntualità. Partecipa! Scegli! Cambia! Grazie!